I provvedimenti che la Regione ha attuato per le circa 240.000 persone con disabilità che vivono in Toscana sono stati al centro della quarta conferenza regionale sulla disabilità allo spazio reale di San Donnino, a cui ha preso parte l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. La conferenza è stata anche l'occasione per varare il forum della disabilità, l'organismo regionale di consultazione sulle tematiche del settore, a cui hanno preso parte circa 100 associazioni. Sui tavoli di lavoro si è discusso di autonomia, diritto al lavoro e allo studio e del progetto di vita varato dalla legge regionale del 2017 per migliorare la qualità di vita delle persone disabili. Nella prima conferenza sulla disabilità, proprio in questo luogo qualche anno fa, una delle prime richieste fu di passare dal progetto assistenziale, dal PAP a un progetto di vita. Il progetto di vita comprende non solo gli aspetti assistenziali, ma anche gli aspetti di studio, di lavoro, di inserimento al lavoro, di un progetto proprio complessivo che riguarda tutti gli aspetti e non solo l'aspetto assistenziale. Oggi finalmente parliamo di progetto di vita e fu proprio una risposta che uscì, una proposta che uscì dalla conferenza sulla disabilità. In Toscana le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato sono 45.000 e grazie al Fondo Sociale Europeo sono stati stanziati 14 milioni e mezzo proprio per finanziare 31 progetti di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro. In crescita anche il numero degli studenti con disabilità iscritti alle scuole di ogni grado e all'università.